Abbiamo già avuto modo di dire che uno dei motivi per cui Vue piace a tanti sviluppatori è la facilità con cui possiamo integrarlo con altri pacchetti JavaScript. Ad esempio, giusto per citarne un paio, per gestire gli aspetti legati alla user interface è questo element, o effettuare richieste HTTP per consumare dati sfruttando le web API che molti web services espongono su internet, o ancora rendere persistenti i propri dati con prodotti come Firebase, un cosiddetto database NoSQL basato sul cloud. Naturalmente non si tratta di pacchetti pensati per essere utilizzati esclusivamente con Vue, anzi Vue è soltanto un cliente di questi pacchetti come tantissimi altri. E sì, perché la comunità degli sviluppatori a livello globale si è fatta prendere decisamente la mano. Si parla di qualche cosa come 400.000 packages. Certamente non tutti di questa portata, molti sono packages di utilità che come veri e propri mattoncini sono stati poi utilizzati per costruirne altri più complessi, e poi altri ancora più complessi. In effetti, anche solo utilizzare questi tre prodotti vuol dire dipendere da diversi altri. Ecco, siamo alla prima rogna che ci presenta quando si vuole estendere il proprio orizzonte. Quella che ha ragione è stata chiamata la Dependency Hell, l'inferno delle dipendenze. Ciascuno dei packages che abbiamo utilizzato a più alto livello ne richiama altri, creando una vera e propria ragnatela di richiami incrociati. Ci sono diversi problemi, ridondanza. Se è lo stesso pacchetto utilizzato in diversi altri, il rischio è quello di includerlo più volte. E può anche capitare che lo stesso pacchetto, in un caso, sia richiesto almeno aggiornato una certa versione, o altre volte che non superi una certa versione. Nulla da stupirsi quindi se quando esce una nuova versione di uno qualunque di questi, c'è davvero da fare ogni tipo di scongiuri. Dai, non ce la si può fare a mano, o comunque si tratterebbe di un compito davvero infame. Ci faremo quindi aiutare da uno strumento specifico, un package manager, un gestore dei pacchetti, che si possa occupare di installarli nelle cartelle dei nostri progetti, tenendo conto di tutte le dipendenze, gestendo gli aggiornamenti e, in realtà, molte altre cose. Quello che abbiamo deciso di adottare è tra i più diffusi, anzi, probabilmente il più diffuso. Si chiama Node Packet Manager, NPM. È scritto in JavaScript. Ma questo non vuol dire che dovremmo in qualche modo caricarlo nel browser per eseguirlo, ma ci renderemo indipendenti, facilitando al contempo anche l'accesso alle risorse del sistema operativo ospite. Strapperemo letteralmente dal cuore del nostro browser il motore che fa funzionare JavaScript, il suo interprete, quel motore identificato dalla sigla V8, che è stato incorporato all'interno di un altro famosissimo prodotto e dal quale l'NPM dipende direttamente per il suo funzionamento, e cioè Node.js. Adesso è tutto più chiaro. Node Packet Manager, il Packet Manager per Node.js, che quindi non utilizzeremo come un backend per il lato server della nostra applicazione. In effetti Node.js è diventato famoso proprio per questo. Un ambiente di valutazione JavaScript lato server maledettamente veloce, che non solo improvvisamente ha reso possibile utilizzare il JavaScript anche lato server, ma che ha anche negato quella storica separazione tra ciò che avviene lato client e ciò che avviene lato server, permettendo uno scambio bidirezionale e sincronizzato di dati tra i due mondi. Ma noi no, non lo useremo per questo, lato server, ma lato client, per far funzionare i nostri strumenti di sviluppo. Bene, abbiamo grazie al Node Packet Manager messo da controllo quella che potremmo definire una dependency hell esterna dei file memorizzati su disco, ma stiamo per scoprire che ne esiste anche una interna legata al caricamento o al loading di questi moduli nella pagina web che devi utilizzarli. E già con pochi, ecco che rispunta in altra veste di nuovo un problema di dipendenze, qui legati all'ordine con cui i vari script sono caricati nella pagina. Che succede se questo primo fu dipende da bar? Fu e bar sono i corrispondenti del nostro italianissimo Pinco e Pallino, Tizio e Caio. Abbiamo un problema, perché fu cercherà elementi che non sono ancora stati introdotti, caricati e acquisiti nella pagina leggendoli da bar. Per cui bisogna stare molto attenti e più sono i tag script, più è facile prima o poi commettere qualche bestialità. C'è anche un altro problema, meno evidente, più nascosto, è che un po' tutte le variabili globali definite nei vari script saranno potenzialmente conflittuali tra di loro e ne abbiamo una marea. E un'altra regola d'oro del programmatore è quella che vorrebbe meno variabili globali possibile. Tra parentesi, anche noi con Vue andremo a concorrere a questa problematica perché, se ricordate, già a suo tempo abbiamo osservato che la modalità più flessibile che apriva tutte le possibilità offerte a Vue era quella di distribuire il codice sorgente su più file separati. Non come fino ad ora che per praticità abbiamo gestito un solo main.js. Ma un attimo, c'è un altro problema oltre a questa dipendenza dell'ordine di caricamento. Ogni inclusione comandata da uno script è gestita con una richiesta HTTP che va a recuperare la fonte, src, per questi script e che, almeno secondo il protocollo HTTP standard, le cose dovrebbero migliorare ma non sono ancora così diffuse con l'HTTP2, è bloccante, cioè non si può proseguire finché la richiesta non è stata completata. E capite bene che con una marea di tag script a processare il problema può diventare di non poco conto. Abbiamo proprio bisogno di un cosiddetto bundler, cioè di un tool che dà un'amalgama di moduli tutti legati tra loro da dipendenze, fondendoli, ne ricava uno solo o comunque pochi liberi da dipendenze. Pochi, pochissimi, significa anche poche chiamate HTTP. Qualcuno starà forse, giustamente, pensando che il recente standard ES6 ECMAScript 6 o 2015 offre già una possibile contromisura a questi problemi offrendo il supporto per i cosiddetti moduli e che lo standard HTTP2 gestisce molto meglio la richiesta multipla di tanti piccoli file. Ma leggo che poi non sono tutte rose e fiori e che in ogni caso è un po' troppo presto. Non possiamo ancora abbandonare gli strumenti che sono oggi sulla cresta dell'onda. Tra i vari bundler oggi in circolazione abbiamo scelto Webpack, uno dei più apprezzati. L'ultimo tassello è ViewCli, un interprete di comandi a console che gioca lo stesso ruolo, ma specializzato per View, di quella che avremmo a disposizione anche per Node.js. In estrema sintesi, con ViewCli potremo facilmente comandare la preparazione, in termini tecnico scaffolding, tutta l'impalcatura di cartelle contenenti tutti i sorgenti necessari per un tipico progetto View, il tutto naturalmente a braccetto con un Webpack. Ecco, ci tenevo, anche per me, forse soprattutto per me, fornire prima una visione panoramica del tutto, ma ora siamo davvero pronti per cominciare a installare i nostri strumenti. Via allora sul sito ufficiale di Node.js, scarichiamo la versione consigliata e installiamola. E non ci sorprende vedere proposte insieme a Node.js npm. Dopo l'installazione, per verificarne la corretta funzionalità, potremmo lanciare la PowerShell, o anche il classico pro dei comandi, non è un problema. Con il comando node-v otterremo conferma della versione installata, ma spingiamoci più in là, lanciamo proprio la command line interpreter, dove dopo qualche giochetto elementare diamoci dentro di javascript. Beh, l'appetito vi è mangiando. Benissimo. Non lasciamoci intimidire da questo undefined. Ci sta. Mentre qui il valore restituito, che è quello che ogni volta comunica la console, è 2, console.log o la definizione di una funzione non ha di per sempre l'ora di ritorno. Ce l'ha invece il suo richiamo. Per uscire, ho due volte Ctrl-C. Adesso sfruttiamo da subito la potenza del gestore di pacchetti npm per installarci la view click. npm install è probabilmente il comando più gettonato, at view è il repository generale di view barra cli, la cosa specifica che ci interessa. Di per sé in questo modo otterremo la cli disponibile soltanto nella cartella in cui siamo. Basta aggiungere però lo switch meno g per rendere globale l'installazione e quindi poi è richiamabile la cli da qualunque cartella. Invio. Qui è abbastanza evidente il lavoraccio che sta facendo il nostro bravo npm nello scavare tra tutte le dipendenze. Lasciamo semplicemente completare. Vedete? Ad esempio come ha beccato in castagna. Il mio sistema non è adatto per quella dipendenza con fsevents. Per fortuna è opzionale e npm l'ha semplicemente glissata, bypassata, schippata. Wow wow! Leggete un po' la penultima riga. Aggiunti ben 631 packages da circa 450 fonti diverse, contributors. Provate un po' a fare tutto a manina e poi ne riparliamo. Finalmente scegliete la cartella per il vostro primo progetto e comandatene la creazione con questo comando. Partiamo easy, cioè non andremo a impelagarci selezionando manualmente le varie caratteristiche, pacchette installare insomma, stiamo sul default. Potrete spostarvi tra le voci usando le freccette e poi ovviamente confermare con invio. sicuramente avrete colto con la coda dell'occhio qua sulla sinistra, studio code che ha aggiornato l'elenco delle cartelle disponibili in quella in cui ho chiesto di creare il progetto. Aspettare come al solito. Finita la prima parte, ma non tutto. Confortante quel found zero vulnerabilities. Fatto tutto. Successfully created project primo progetto. Get started with the following commands. cd primo progetto, cioè entriamo nella cartella primo progetto e facciamo partire il server con npn run serve. Prima però vogliamo darvi un'alternativa visuale a questa testuale. Date infatti il comando view, ui, cioè user interface. Verrà fatto partire un server web. Eccolo qua. Sul secondo monitor l'ho pigliato. Il view project manager. E qui quasi mi vergogno. Comunque create, create a new project here. Il nome. Il package manager da utilizzare. Quindi non necessariamente con il default. Questo è abbastanza recente. Mi parla di Facebook. E alcune opzioni tipiche di quando si vanno a fare queste cose. Va bene. Ora non vogliamo perderci troppo tempo. Cancer. E siamo arrivati alla fine del video. Infatti, di ciò che ci troviamo in questa cartella di progetto, parleremo la prossima volta. A risentirci.